8 vittorie consecutive con 73 gol fatti e 32 subiti e un'imbattibilità che perdura da oltre 3 mesi. Numeri strabilianti per la Bisgubbio, reduce dall'iperbolica vittoria per 12-2 nel derby testa coda contro i Tifernati del CTS Grafica che ha consentito ai Russo Blu di mantenere la vetta solitaria del girone di Dibi Nazionale di Fuzzal, un punto sopra Prato e tre sopra Cussancona. La volontà è quella di proseguire, tale trend, e non abbandonare il primato e per farlo la compagine gubina è chiamata a non fallire domani nella quindicesima di campionato. In arrivo di fatti la seconda partita filata alla Polivalente con la Vis pronta a ricevere alle 16 Atlante-Grosseto, formazione a quota 16 punti in penolimbo tra play-off e play-out. Un ulteriore banco di prova per il quintetto di Mr. Bettelli al fine di proseguire la striscia vincente e crescere ancora di più dal punto di vista mentale per dimostrare ancora una volta di meritare una prima piazza che, a fine campionato, potrebbe significare l'approdo in A2. Domani arriva la Polivalente-Grosseto, una squadra di metà classifica, però comunque bisogna dare sempre il massimo noi per mantenere il primato e quindi sarà una partita molto importante per noi, bisogna continuare la nostra serie di vittorie come stiamo facendo e di tenere massima la concentrazione. Sicuramente la pressione c'è, è inevitabile perché essendo la capolista per forza ti mettono il fiato sul collo le squadre sotto. Poi chiaramente abbiamo il Prato a un punto, l'Ancona a tre, quindi la pressione aumenta. Bisogna essere bravi, come dice anche il mister, a tenere la massima concentrazione e da qui a fine aprile sono otto finali, ci rimangono. E bisogna provarle e cercare di vincerle tutte. Per Stefano Pierotti, peraltro, questa è l'annata della redenzione, dopo il brutto infortunio al tendine d'Achille che gli ha fatto perdere gran parte dell'ultimo campionato. Ma il pivottegubino è ripartito quest'anno con grande determinazione e voglia di essere ancora protagonisti in magliavis, arrivando già in doppia cifra di gol e con l'obiettivo di dare il massimo, sino a primavera inoltrata, per provare a raggiungere un sogno chiamato Serie A. L'anno scorso è stato un anno molto duro per me, perché comunque ho subito la rottura del tendine d'Achille, quindi è stato un anno impegnativo. Quest'anno posso dire di aver ripreso benissimo, perché già ad agosto ho iniziato la preparazione con la squadra, ora attualmente sto molto bene, mi alleno a pieno regime, quindi guardiamo il positivo del lato.